Ormai questa è diventata la stanza degenza. Abbiamo una nuova ospite, ciao, non ti strusciare, non ti puoi strusciare, vieni, vieni, venere, venere, vieni qua, amore. Allora, me lo spieghi tu, allora qualche giorno fa siamo andate fuori a un supermercato Santa Maria e all'uscita c'era lei. Palpettina, ma come siamo dolci, che ci fai tu in mezzo alla strada, piena di nulli? Che chiede facevano questo? Quindi ci siamo venere, vieni qui. Vieni, vieni amore, vieni. Niente, quindi abbiamo detto che questa gatta non poteva restare per strada, non era proprio il posto per venere. Venere, venere, e cosa c'è? Come ti abbiamo portata? Primo giorno di degenza per venere, goccine per l'otite che ha, una brutta otite, poverina. Adesso la puliamo, la puliremo, perché adesso c'è l'antiparassitario che le abbiamo messo, perché era piena di pulci. Piena, piena di pulci. Piena di pulci. Amore. Adesso c'è la pappa tutta per lei e un po' sto caldo, vero amore? Pian piano stiamo ridando dignità a venere. Ora la stiamo spazzolando. E guardate che pasta che sta facendo. È un sacco di pasta. È bravissima. Solo che ci sono dei punti del pelo che sono proprio annodati e abbiamo dovuto tagliarli perché c'erano schifezze incastrate dentro, insomma, un casino. Però pian piano, cioè già da ieri che l'abbiamo recuperata, oggi sta riacquistando un po' della sua dignità. Poi vi raccontiamo meglio. Devi provare a toccarla sotto. Piano piano, lascia la mangiare adesso. Adesso già un altro gatto rispetto a ieri. Abbiamo tagliato le parti dove aveva i nodi proprio e aveva attaccate delle cose, annodate al pelo, insomma. Si è fatta fare tutto, è stata bravissima. Comunque lei l'abbiamo recuperata fuori da un supermercato qui a Santa Maria. Poi vi racconteremo meglio la sua storia, ma comunque non ce la siamo sentita di lasciarla lì perché è una gatta dolcissima, davvero dolcissima. Cerca tantissimo il contatto umano, fa le fusa. Cioè era proprio un dispiacere lasciarla in strada. E l'abbiamo portata subito dal veterinario. Una volta recuperata abbiamo scoperto che ha una fortissima otite. Così forte che si è grattata da sola dietro l'orecchio, si è lesionata dietro l'orecchio, si è fatta una ferita. Tutte e due. Tutte e due le orecchie, una più dell'altro, sì. Puzzona, stai facendo le scorreggioni. È mezza sdentata, non sappiamo se perché è vecchia o per via della vita in strada. Il nostro sospetto è che comunque sia stata abbandonata, che non sia sempre vissuta in strada perché è davvero troppo umana, troppo abituata alla presenza umana, cerca un sacco le coccole, è dolcissima. Non sappiamo quando e se è stata abbandonata, non sappiamo niente, non sappiamo nemmeno quanti anni ha perché anche il veterinario non è stato in grado di dirlo. Non si sa nulla di questa gatta. Sappiamo solo che è dolce dolce e che adesso ce ne occuperemo finché non si rimette e poi le troveremo un'altra casa. Siamo sicure che diventerà una gatta bellissima una volta che si sarà rimessa del tutto. È già bellissima. Sì, beh, è già bella. È già bellissima. Venere. Venere. Ciao. Guarda come siamo belle senza più i nodi. Sì, dobbiamo ancora farci un bagnetto ma dobbiamo aspettare, vero? Era piena di pulci, povera potatina. Piena di pulci. Adesso dobbiamo aspettare che l'antipulci faccia tutto l'effetto e poi facciamo un bagnetto perché davvero necessita. Le cose dietro al sedere, però... E lì c'è ancora una cosa, un coso annodato da tagliare là dietro. Guarda com'è dolce. Sei bellissima. Sei felice di essere in una casa, amore? C'hai tutto questo letto, tutto per te. Tutto per te. È vero. Guarda la lucina. La lucina. La lucina. La lucina. No, si è scaricata di nuovo, dai. E di là devi andare a vederla. Ma come stavi giocando fino a così nero? Eccola. Diciamo. Pazzo, sei già stufato? Pazzo, sono pazzo! Sono pazzo! Ci! Ma vedi che non ti parla. Ti parla? Oreo. Che c'è? Che c'è? Oreo? Oreo? Che c'è? Che vuoi? Dove andare a dormire. Che vuoi? E che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Oreo? Oreo? Che fai con sta coda? Mi fai vedere le palline. Ne conosco le tue palline. Che vuoi? Oreo? Ma niente, sta prendendo il sole. Guarda. Bellezza il sole. Allora ragazzi, forse non l'ho fatto prima. Lo faccio adesso, cerco di fare un recap molto piccolo. In questo periodo in cui siamo ferme, Alessia ha anche deciso di aiutare, ovviamente io sono d'accordo sempre, dei gatti in difficoltà. Vabbè, ovviamente Oreo è capitato, cioè ce lo siamo ritrovate per strada, dietro al camper, proprio sul marciapiede, dietro al nostro camper. Era tutto smarrito, impaurito sotto la pioggia, che piangeva come un disperato. E l'abbiamo preso, portato dal veterinario, fatto visitare. Sta benissimo. Eccolo. Curato, già vaccinato e quindi lui è in perfetta salute. Assolutamente, assolutamente bellissimo, per quanto maledetto. È tanto maledetto quanto bello. È molto dolce, come in realtà, sono sincera. Quando non è in versione figlio di Satana è molto dolce. Però è davvero tanto, 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 tanto vivace. Tanto, 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 Non pensiamo comunque di tenerlo perché Dorian non è molto per la quale, ormai sono tre settimane che sta in camper con noi e Dorian non è contento, la nostra priorità assoluta ovviamente è il benessere di Dorian, quindi stiamo cercando in realtà per Oreo una nuova casa. Stati fermo, stai qua, presentati, vedi? No, stai fermo. Ok, Oreo ha circa tre mesi più o meno adesso, è un gattino super mega vivace, a volte dolce, non tira mai fuori le unghie, mai 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 mai, nemmeno per giocare, è un'anguilla, vedi? Vuole andare, vuole andare, vuole andare, non è particolarmente coccoloso al momento, anche se quando è stanco si accoccola vicino a te per farsi coccolare mentre dorme, però vuole giocare tantissimo e quindi cerchiamo per lui una famiglia, quindi tatti fermo! Se volete un gattino super mega vivace, vi assicuriamo che prima o poi si darà una calmata sicuramente, fatecelo sapere, vi lasciamo la nostra email qua sotto, ci potete scrivere, ovviamente ci sono delle, come dire, ci sono dei requisiti, nel senso chiediamo una famiglia che lo ami e che lo curi, che non lo tenga solo fuori in giardino libero, perché anche perché è pericoloso, ma che lo tenga in casa, cioè deve essere non relegato in casa, attenzione, che però deve essere un gatto di casa, non un gatto che vive fuori nelle campagne, ecco, perché lui comunque vuole il contatto umano quando gioca anche molto con gli umani. Sarebbe preferibile una famiglia che ha già un altro gatto, oreo va d'accordo anche con i cani, ovviamente ci vuole un attimino finché si abitui al cane, però Sakura per dire la adora, giocano insieme. Ma io che c'entro? Non ti sto riprendendo. Madonna! Sakura, vai posto tuo, vai posto tuo, vai posto tuo! Sakura, vai posto tuo, vai posto tuo! Sakura, vai posto tuo! Sakura, vai posto tuo! Seduta! Uffa! È arrivata, è arrivato, è arrivato l'arratino! Arata tutta! Mano! Uffa! 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 C'è faccia! Dov'è quello? Piccolo criminale! piano Sakura quindi se avete dei cani che vanno d'accordo con i gatti potrebbe anche essere con gli altri gatti va d'accordo purché gli altri gatti vadano d'accordo con lui però questo è anche un altro discorso preferiremmo che ci fossero altri gatti perché comunque lui cerca tanto la compagnia non è un gatto solitario anzi quando è capitato che l'abbiamo lasciato da solo perché abbiamo portato fuori Dorian lui piangeva tantissimo come un disperato quindi questo è il primo requisito il secondo requisito è ovviamente la cura cioè nel senso sappiate che nel momento in cui si prende un animale l'animale va curato in tutto e per tutto ora è un gatto sanissimo non ha bisogno di nulla però ovviamente i vaccini annuali se si ammala va curato cose normalissime terza cosa il gatto non è un giocattolo non ve lo sto nemmeno a dire quindi un gatto non si regala si adotta quindi l'adozione deve essere consapevole quarta cosa fondamentale assolutamente fondamentale è la sterilizzazione quando sarà il periodo giusto il gatto va sterilizzato punto e su questo non si intransige quindi se pensate di avere tutti questi requisiti e vorreste accogliere nella vostra famiglia un piccolo indemoniato io sto facendo una presentazione pessima però è dolce è dolce dico la verità è dolce comunque se lo volete fateci sapere qua sotto nei commenti o meglio ancora scriveteci l'email ve la lascio qua che appare qui e ve la metto anche in descrizione infine giuro finisco i pipponi per quanto riguarda la gatta che abbiamo salvato dalla strada che abbiamo chiamato venere vi lascio dei video qua venere è una gatta probabilmente anziana non sappiamo quanti anni ha perché era una gatta di strada l'abbiamo trovata fuori in un supermercato che le mosinava coccole più coccole che cibo proprio di una dolcezza disarmante buonissima ci ha fatto proprio una cosa nel cuore non potevamo lasciarla in strada quindi d'accordo col papà di Alessia l'abbiamo presa e l'abbiamo portata da lui perché ovviamente non poteva stare in camper con noi perché non sappiamo se ha delle malattie comunque era piena di pulci insomma non poteva assolutamente stare in camper con noi dato che il papà di Alessia sta in quella casa grande che avete visto abbiamo deciso di dedicarle una stanza solo per lei e tenerla in degenza l'abbiamo portata al veterinario le abbiamo curato la fortissima autite che aveva l'abbiamo portata in toilettatura a lavare perché aveva il pelo che era al di là di sporco era proprio pieno di nodi pieno di schifezze cioè una roba indecente ci sono volute 5 shampoo per lavarla 5 ha finito adesso la cura per l'otite sta meglio le stiamo dando cibo di qualità la stiamo spazzolando tutti i giorni coccolando tutti i giorni adesso dovrà tornare dal veterinario perché finita la cura dell'otite è pronta per fare dei test perché dobbiamo capire se ha delle malattie filve felve eccetera quindi e farle un vaccino ovviamente quindi adesso finite le feste la porteremo dal veterinario per fare questi test è il primo vaccino cioè no il primo il vaccino in modo che lei sia pronta per l'adozione è stata sverminata spulciata curata l'otite pulita quindi è potenzialmente già pronta per essere adottata è una gatta anziana quindi non ha non è come quel figlio del demonio non necessita davvero di nulla se non amore e cura basta lei dorme quasi tutto il giorno cerca coccole cerca tantissimo cibo perché poverina chissà quanto ha mangiato quanto è riuscita a mangiare mentre stava in strada infatti adesso da quando sta con noi ha messo su un pochino di peso per fortuna perché era davvero tutto pelo e ossa basta non è una gatta per niente impegnativa per niente impegnativa perché è come non averla in casa a parte quando magari ti avvicini a lei allora lei ti cerca per le coccole ma basta dopo un po' che la stai coccolando lei se le torna nella sua cuccia sta tranquilla non distrugge nulla proprio la gatta più pacifica del mondo quindi per questo secondo noi potrebbe essere adatta anche ad una famiglia di persone non giovanissime non dico delle persone di 80 anni perché magari può essere difficoltoso però comunque delle persone in pensione magari che hanno tempo da dedicarle anche se lei davvero non richiede tanto tempo comunque insomma non è un gatto giovane energico che ha bisogno di stargli dietro farlo giocare è molto più impegnativo dal punto di vista gestionale e soprattutto i gatti considerate che vivono se tenuti bene anche 20 anni lei venere probabilmente avrà una decina d'anni forse anche più forse anche più di 10 anni in realtà perché Dorian ne ha 10 certo Dorian è sempre stato un gatto di casa lei invece è stata in strada e sicuramente ha risentito della vita in strada quindi potrebbe anche dimostrare più anni di quelli che ha sospettiamo anche che l'abbiano maltrattata in un certo senso nel senso che qualcuno l'abbia presa a calci in faccia perché ha dei denti spezzati e quando ti avvicini al muso lei si ritrae e si difende senza unghie comunque sempre carinissima non sappiamo la sua storia non sappiamo quello che ha passato e quasi certamente è stata una gatta di casa perché quando l'abbiamo messa in casa lei non ha avuto il minimo problema a fare i bisogni nella lettiera a dormire nella cuccia a mangiare nelle ciotole mentre un gatto abituato a stare in strada se lo chiudi dentro una stanza di solito impazzisce lei no lei messa in quella stanza è il suo piccolo mondo se anche le lasciamo la porta aperta della stanza lei non ne esce quasi mai perché si sente protetta si sente al sicuro quindi ripeto davvero non è una gatta impegnativa da gestire e se pensate di poterla adottare ve la portiamo personalmente così come oreo lo portiamo personalmente anche se preferiremmo per lei non farle fare grossi viaggi perché appunto è anziana e quindi se trovassimo un'adozione qua nella zona diciamo in campagna quanto meno sarebbe perfetto non sappiamo se è sterilizzata probabilmente non lo è lo scopriremo probabilmente da una cura una visita più accurata dal veterinario anche se è molto difficile scoprirlo ma comunque è l'importante non farla uscire ecco per lei un'adozione in casa sarebbe perfetta perché non ha proprio il minimo interesse ad uscire anzi col fatto che ha una certa età che ha già vissuto in casa secondo noi è anche più debole dal punto di vista immunitario fisico e quindi sarebbe davvero meglio tenerla solo in casa perché ripeto non ha mai mostrato interesse per uscire da quando ce l'abbiamo in casa quindi anche per venere fateci sapere qua sotto nei commenti o meglio ancora nell'email che vi lascio sempre qua ciao